Probabilmente lo farò stasera, sicura che non fa male. Non lo so, prenderò il rasoio di mia madre e mi raserò. Le parti più profonde e oscure di me, come sangue attraverso cuori, le mie arterie, vediamo. Che spettacolo! Pasione verbal Hai capito come si dà da fare, signor Tulè? Asi che raile il tango Tu non lo sacai Pasione verbal Grazie, Morgan.